Praticamente tutti i farmaci contengono, oltre al principio attivo, qualche ingrediente supplementare che può causare allergie, dal glutine al lattosio. Lo afferma uno studio della Harvard Medical School, pubblicato da Science Translation Medicine, secondo cui spesso i pazienti non sono a conoscenza dei rischi. I ricercatori hanno analizzato oltre 42.000 farmaci orali, concentrandosi sui loro oltre 350.000 eccipienti, ingredienti che non sono biologicamente attivi ma che servono a variare consistenza, sapore e altre caratteristiche della medicina. In totale lo studio ha trovato 38 molecole che potrebbero scatenare reazioni allergiche dopo l'esposizione, ma il 92,8% dei farmaci presi in esame ne conteneva almeno una. Il 45% delle medicine analizzate, ad esempio, conteneva lattosio, il 33% qualche colorante alimentare, mentre una minoranza dei casi, lo 0,08%, aveva olio di arachidi, anche se in questo caso è risultato difficile trovare un'alternativa che non avesse questo ingrediente. Anche se li chiamiamo inattivi, spiega Giovanni Traverso, uno degli autori dello studio ripresi da Ansasalute, in molti casi questi eccipienti non lo sono. La dose può essere bassa, ma non sappiamo quale sia il limite per gli individui per scatenare una reazione. Questo progetto è stato ispirato da un incidente avvenuto nella vita reale, quando a un paziente con celiachia è stato prescritto un farmaco e la formulazione della pillola che doveva prendere conteneva glutine, un quadro preoccupante che si somma alla già frequente capacità del farmaco di stimolare il sistema immunitario ad indurre una reazione allergica direttamente connessa con la sua struttura chimica. Alcuni farmaci sono maggiormente in grado, rispetto ad altri, di indurre la reazione allergica. Inoltre, l'assunzione ripetuta dello stesso farmaco è maggiormente allergizzante rispetto alla terapia continuativa e ancora le somministrazioni intramuscolare o endovenose sono maggiormente allergizzanti rispetto alla somministrazione per via orale.